Bene ragazzi, ora ci troviamo su una strada di montagna Quindi adesso stiamo guidando con l'inno drive Ma ogni volta che premo l'acceleratore o il freno L'inno drive si disattiva Guardate sta strada di montagna che a un certo punto si stringe Mamma mia Se la situazione è come dice Porsche In queste strade dovrebbe cellere Quindi io devo sempre tenere una mano sul volante Metto, non lo so, 70 km orari di limite Voglio riuscire a capire se mi riesce a fare delle traiettorie correttamente Automaticamente Ecco, sta rallentando Si sta rallentando Oddio è vero Non ho fatto niente ragazzi, non sto muovendo i piedi Sta rallentando da sola Sta riaccelerando Oh mio dio, con il navigatore sta andando e con tutti i suoi sistemi Sta funzionando ragazzi